Eminenza, oggi alla solennità della Madonna di San Luca lei ha richiamato l'accoglienza, lo sguardo della Madonna. In questo tempo cosa significa? Ma significa ecco un bisogno di maternità, di misericordia, a parte le disgrazie naturali che perlomeno direttamente si può far poco, indirettamente si poteva far tanto, ma lasciamo stare, ma le disgrazie più grandi sono quelle veramente provocate dagli uomini, sono le guerre, sono le ingiustizie, gli sfruttamenti che poi appunto portano un'inquietudine generale nell'umanità. L'ONU ha detto che c'è un numero smisurato di guerre fra grandi e meno importanti eccetera e il Papa ha ragione quando dice che basta poco perché divampi un incendio su tutta la terra. Quindi dobbiamo costruire la pace, Regina della pace, Regina della pace. In queste ore c'è anche il dramma dell'alluvione, fra l'altro ha toccato anche direttamente la sua famiglia con suo fratello Fainz. Ecco, questo fiume di bene, di solidarietà, di umanità grande che sta venendo fuori in queste ore, piangiamo le vittime, siamo vicini a chi ha perso veramente tutto, ma c'è tanto tanto bene che si sta diffondendo, anche con giovani che vanno, i cosiddetti angeli del fango. Ma i giovani sono meravigliosi, il Signore mi ha dato una lezione tremenda perché credevo che i giovani del fango fossero finiti con l'alluvione di Firenze dove io e il Cardinal albetorie e ci siamo tanti che siamo preti, anche vescovi, ci siamo impegnati. Invece i nostri giovani sono buoni perché forse noi delle volte ci si inganna con qualche giudizio eccessivo perché quello che abbiamo visto fare dai giovani veramente ecco ci tocca dentro e me lo diceva anche mio fratello perché hanno dovuto fuggire da un terrazzino con quattro metri di acqua ancora. Quindi dobbiamo veramente cogliere questa generosità dei nostri giovani e forse ci fa anche riflettere che anche come Chiesa ma anche come società noi non stiamo facendo tutto quello che dovremmo fare per i ragazzi e per i giovani. Ha richiamato nell'omelia il bisogno di interiorizzare oggi Festa dell'Ascensione correndo anche il cammino dei discepoli. Cosa significa per noi oggi interiorizzare in una società che esteriorizza tutto, tutto sull'esterno, tutto sull'esteriorità? Però bisogna riuscire anche nella nostra pastorale. Un tentativo grande l'ha fatto il Papa col Sinodo ma il Papa non può fare da solo il Sinodo e nemmeno i vescovi e nemmeno i preti. Bisogna veramente trovare delle forme di coinvolgere perché ciascuno si renda conto di una propria chiamata di Dio. In fondo io facevo una riflessione di anzi. Ho detto qui nell'Emilia siamo nella terra di Peppone e di Don Camillo. Stamattina però probabilmente non si distinguevano, Peppone e Don Camillo, nell'affetto, nella devozione e nella fede alla Madonna. Quindi noi dobbiamo anche... e il Papa insiste sempre e dice che la devozione popolare e stamani ce n'era tanta di devozione popolare è il fondamento della fede. Lo dice il Papa e io lo condivido in pieno. Forse bisogna anche avere più rispetto. Non che tutte le forme vadano bene, non dobbiamo nemmeno viziare il popolo, ma per esempio una liturgia come quella di stamani dove nella liturgia eucaristica che è il centro di tutta la vita cristiana si riesce anche a inserire elementi così di devozione che toccano il cuore, c'è bisogno anche di questo.